Allora mi sono sempre in giro, così sto guidando perché sono sempre in giro gli altri rappresentanti di commercio quando vedo un campionario nuovo andiamo in giro a presentare allora scherzo ovviamente sono in giro per fare i miei spettacoli e dice ma perché mi racconti questo? perché io nel mio vagare da nomade, da artista nomade, ho due punti di riferimento che mi danno le informazioni necessarie Isoradio e Pianeta Genoa, ecco con Isoradio e Pianeta Genoa io posso andare dove mi pare quindi siccome so che compie 13 anni e quindi è un adolescente ormai Pianeta Genoa mi faceva piacere fare gli auguri sperando che 13 anni di Serie A adesso vuoi vedere che andiamo, vabbè non dimmo niente, incrociamo le dita però di sicuro, questo bisogna ammetterlo, abbiamo una squadra di giovani che secondo me hanno delle belle prospettive è un allenatore che mi piace, anche se uno parla in Belinda esenese o di italiano poco ma come piace, va bene? questo per dare il mio apporto ai 13 anni di Pianeta Genoa rimanendo sempre sul pezzo auguri ancora da Tullio Solenghi, genuano doc, genuano a vita che spero sia sempre l'onda ciao